Che cosa augura nel futuro culturale a Formigine? Io intanto auguro quello che Formigine ha già. Formigine, tante volte i formiginesi non sanno di vivere in una cittadina meravigliosa, una cittadina con il verde, una cittadina con la tranquillità, una cittadina con spirito, una cittadina che trasuda in ogni caso arte, poesia e storia. E io auguro comunque buona vita culturale a Formigine. Grazie. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti.